Buongiorno amici, come state? Benvenuti sul canale di Noisy Boy e benvenuti in questo nuovo video molto ma molto speciale. Durante questa quarantena, che ci costringe purtroppo a rimanere a casa, ho cercato di tenervi compagnia con diversi interventi sia su Instagram con le live che su YouTube con nuove serie come il Bad Boys Buff Edition. I più attenti di voi però avranno notato la nuova realtà che ho creato insieme a mio amico e collaboratore Matteo, Noisy Style. Si tratta di un laboratorio di idee che ascolta le vostre esigenze e che vuole soddisfare con prodotti utili e funzionali, ovviamente legati al mondo delle moto. Quindi se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità, ti consiglio di andare a vedere in descrizione qua sotto che trovi il link della nostra pagina. Ma veniamo al dunque. Vivendo come voi in una situazione di emergenza e avendo le competenze adatte, abbiamo deciso questa volta di focalizzarci su un prodotto utile ad aiutare voi e soprattutto chi non può farlo. Avete capito di cosa stiamo parlando? Esattamente loro. Mascherine. Chi di voi come me ha vissuto o sta vivendo l'emergenza mascherine? Quanti di voi ne possedono già una? E soprattutto vi siete informati bene prima di acquistarle? Dopo svelate telefonate e confronti siamo finalmente arrivati a creare questa iniziativa. Con grande piacere finalmente riesco a presentarvi Noisy Mask in collaborazione con G-Moto. Azienda che tra l'altro è riuscita a convertire la propria produzione da tute da moto, che ben conosciamo la mia, in mascherine lavabili, con tessuti certificati e che rispettano le norme del decreto cura Italia. Il nostro intento quindi è coinvolgervi in un progetto a cui crediamo molto. Infatti vogliamo rendere disponibili queste nuove mascherine personalizzate con il nostro logo Noisy Style, convertendo il ricavato dei primi 500 acquisti in ulteriori 500 mascherine che io e Matteo andremo a consegnare in forma gratuita alle associazioni benefiche di Milano. Quindi tu, acquistando una Noisy mascherina, permetterai a G-Moto di produrne una uguale che io e Matteo andremo a consegnare ai più bisognosi. Per rendervi più partecipi all'iniziativa e aggiornarvi sulla distribuzione delle mascherine, io e Matteo creeremo un motovlog che troverete sul canale nei prossimi giorni. Ho fiducia in voi e sono sicuro che molti parteciperanno, dandomi la conferma di avere un pubblico solido e unito. È un'ottima occasione per metterci in gioco tutti insieme e dare un aiuto reale a chi ne ha veramente bisogno. Il link del sito web con tutte le info e le caratteristiche di queste mascherine lo trovate qua sotto, in descrizione. Io invece aspetto la vostra risposta. Colgo l'occasione per chiedervi, se vi va, di condividere questo video sui vostri canali social. Raggiungiamo più persone possibili, facciamo qualcosa di bello insieme. A presto ragazzi!